Claire Fill S. Bond è l'adessivo self-hatching primer di Cura Rai per restauri diretti, considerato il gold standard della tecnologia adesiva da prestigiosi università e importanti opinion leader. Claire Fill S. Bond, grazie alla sua esclusiva tecnologia e alla sua elevata resistenza all'idrolisi, permette di ottenere un sigillo marginale perfetto e duraturo. Caratterizzato da elevati livelli di adesione garantiti dalla molecola MDP, brevetto esclusivo di Cura Rai contenuta nel primer, è apprezzato dai dentisti di tutto il mondo anche perché è in grado di eliminare problemi legati alla sensibilità post-operatoria. Grazie alla sua capacità di creare un forte sigillo marginale e alle ridotte possibilità di errori manuali, Claire Fill S. Bond garantisce una performance di alto livello anche a lungo termine. Di studi in vitro sull'adattamento marginale allo smalto e alla dentina mostrano l'efficacia di Claire Fill S. Bond nel creare un eccezionale duraturo sigillo marginale. Inoltre, Claire Fill S. Bond conferma la sua forza mostrando un tasso di ritenzione superiore al 97%, come ha affermato i recenti studi clinici. Il kit di Claire Fill S. Bond contiene il primer automordenzante in un flacone da 6 ml, l'adesivo in un flacone da 5 ml, gli accessori, una scodellina per miscelazione, due pennelli, 100 pennellini monouso, una piastra fotobloccante e la pratica IntelliCase. La confezione IntelliCase permette un utilizzo facile e sicuro, grazie al quale viene evitato ogni contatto tra il materiale e la pelle dell'operatore.